allora ciao a tutti ragazzi e ragazze fracolosi scusate un po' il sottofondo delle parole delle persone ciao tesoro ragazzi qua salutiamo perché siamo una serata qui guardate c'è anche la mia locandina siamo al bareten di Sancepiano qua la musica degli altri artisti spero che la mia voce si sente vi volevo annunciare che prossimamente penso un'altra quindicina ventina di giorni uscirà il video ufficiale di Zia Wilma della canzone E non sta bene E non sta bene Maria perché non sta buona Zia Wilma è tutta riarrangiata in versore dance seguitemi sulla pagina di Zia Wilma la mia pagina ufficiale ma potete anche seguire la pagina Wilma Drag Show cioè la pagina ufficiale del canale Youtube di Zia Wilma perciò io vi saluto un buon proseguimento di giornata noi qui ci troviamo in serata sono le 22 passate un bacio a tutti e alla prossima dalla bellissima e scicosissima e sbrillocicosissima Zia Wilma ciao a tutti ragazzi e ragazze fragolose ciao